Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Stocca Ciao a tutti da Non Trovo Un Username Chiedo intanto scusa per il pseudo pizzo qui che non si sa cosa sia Non ho iniziato con i capelli in questo vlog per fortuna E anticipo che questo è il video praticamente rifatto del mio primo vlog Che parlava del mio progetto Una Foto Ogni Giorno Che potete trovare qui O qui Niente Volevo semplicemente dire due cosette riguardo questo progettino Mi è venuto in mente ovviamente due anni e sette mesi fa E adesso sono a due anni e sette mesi di progetto Yeah È una cosa molto carina da fare anche se devo ammettere che può prendere un attimo Come si dice dalle mie parti prende a male Ossia riguardandolo comunque ti accorgi che concentrando due anni in un solo minuto di video Ti fa rendere conto del fatto che il tempo passa molto molto velocemente Però dall'altro lato sento di consigliarlo perché è un modo per rimanere aggiornati sui cambiamenti che avvengono anche proprio a livello fisico Però per esempio anche alcune foto riportano alla mente avvenimenti oppure amicizie Momenti proprio importanti che In cui siete stati e in cui vi siete fatti quella foto Senza pensarci però che poi riguardando in effetti vi accorgete che è una parte della vostra vita che avete immortalato Ed è una cosa a mio parere molto molto bella Poi l'altro video era un po' più lungo C'erano molte più stupidaggini Però ho deciso di farlo un attimo più breve e parlare schiettamente Concludo facendovi vedere il mio Geko che sta dormendo bello tranquillo Lo direte con Geko È l'apoteosi dello scazzo questo Geko È stupendo Se siete arrivati fino alla fine potete trovare il mio progetto Qui Quello della foto ogni giorno Grazie a tutti quelli che mi hanno contattato in privato Oppure che mi hanno fatto complimenti per i corti nonsense Vabbè ci vediamo al prossimo vlog Ciao 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 Ciao